è la reazione tipica dei bugiardi sei un bugiardo sei tutto finto chiacchieri tanto ma sei finto sono d'accordo con armando bene grazie io vi ringrazio ho conosciuto veramente chi mi spiega la vita a volte è meglio raccontarla che viverla ma che c'entra chi ti spiega la vita ma che c'entra si sta parlando di quello che succede qua nessuno di noi si permette armando se ho sbagliato qualche termine il mio pensiero e il mio sentimento è questo fai la vittima a 73 anni però ti hanno coraggio di fare la vittima però non hai il coraggio di assumere la responsabilità e si te stai piangendo addosso te stai piangendo addosso ma che te piangendo addosso me ne vado Maria non me ne vado ti chiedo scusa ma ma è la colpia o è tua che non sei capace a gestire determinate situazioni è mia è mia è mia è perché qualcuno ti ha cacciato se tu che dici me ne vado allora ci dobbiamo stare zitti quando sei tu al centro studio non parliamo più perché se no il signore si mette a piangere e se ne va da per favore Massimiliano Maria quindi stai andando? io non vorrei andare via ma se io sono di disturbo alla trasmissione perché non mi sono piaciuto nella reazione adesso ma Massimiliano me lo permetti di dirlo questo Maria perché stamani ero anche più sereno grazie a tutti